Il PD chiederà dei miglioramenti molto precisi e molto forti per quanto riguarda due argomenti, le politiche per lo sviluppo, per la crescita e per gli investimenti, soprattutto attivando attraverso anche meccanismi di garanzia pubblica tutti gli enti, tutte le strutture che possono fare investimenti, sia per quanto riguarda il credito alle aziende, in particolare alle piccole aziende, sia per quanto riguarda le infrastrutture, sia per quanto riguarda l'innovazione, la ricerca, le ristrutturazioni industriali, quindi un fortissimo intervento sulla crescita e il secondo punto che noi chiediamo è quello di aiutare con molta attenzione la parte della popolazione che in questi anni ha pagato le conseguenze della crisi, quindi i redditi più bassi, su cui proponiamo di concentrare la riduzione della tassazione sui redditi fino a 25-30 mila e poi con le politiche sociali di sostegno, in particolare alla non autosufficienza e per quanto riguarda la tassazione sull'abitazione fare in modo che sia più bassa rispetto alla precedente tassa dell'Imu sulla prima casa e che soprattutto vengano garantite le detrazioni per i redditi più bassi, esattamente come era nella condizione precedente al 2012.